Nell'Adriatico si potrà proseguire la trivelazione dei fondali marini per la ricerca di idrocarburi. Dopo la sconfitta del quesito referendario che si opponeva a tale pratica e dopo la presentazione dei ricorsi da parte di vari enti tra cui le regioni Puglia e Abruzzo, il Consiglio di Stato ha infine dato il via libera alla creazione di nuove piattaforme in mare e questo riguarda anche la costa romagnola. L'area di ricerca del gas coinvolgerà oltre 30.000 metri quadrati. Un progetto che ha di recente fatto discutere è quello denominato Bianca Luisella che coinvolge il tratto di acque tra le Marche e la Romagna. Si tratta di una maxipiattaforma con otto nuovi pozzi che dovrebbe a breve comparire all'orizzonte del tratto sud della costa riminese. L'amministrazione comunale di Cattolica che vi si troverebbe di fronte negli ultimi tempi si è mossa autonomamente per presentare ricorso al TAR e chiedere l'annullamento del progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente. Il sindaco Gennari afferma di non avere intenzione di retrocedere e chiede agli altri sindaci della zona che nelle scorse settimane lo hanno schivato di unirsi alla sua battaglia.